Buongiorno, sono Roberto Massarotto, sono il responsabile marketing internazionale di Benelli e siamo qui al show di Las Vegas 2017. Lo show come si può vedere nei corridoi e sugli stand è molto affollato come di consueto e Benelli ne è come al solito una grande protagonista. Grande successo nel 2016 per quanto concerne l'evento di Benelli nelle tre categorie di prodotto, il core business semiautomatico, il pompa e l'ultimo nato il sovrapposto. Quest'anno allo show presentiamo una grossa novità che è l'SBE3, il Super Black Eagle che ha raggiunto la terza edizione, un prodotto pieno e ricco di caratteristiche tecniche, di novità e di benefici tangibili per il consumatore che mi invito poi a andare a visionare al Benelli USA Buff. Parlando dello show show e del mercato americano, sappiamo che il mercato americano rappresenta per Benelli sicuramente una fetta di mercato significativa dove viene sviluppato gran parte del nostro business. Siamo un premium brand, siamo i leader indiscursi nell'arma semiautomatica del liscio dove siamo riusciti a coniugare la tecnologia con un aspetto cosmetico ed ergonomico veramente ad altissimi livelli. L'altro prodotto che mi preme sottolineare è l'Ethos 28, il primo semiautomatico in cavo 28 in cameratura magnum presentato lo scorso anno e che sta avendo un successo sul mercato a stelle e strisce ben oltre le più rose aspettative. Benelli anche quest'anno non deluderà i propri seguaci, il proprio pubblico perché torno a parlare dell'SV3, un fucile fantastico, un super magnum senza eguali nel mondo delle armi semiautomatici. L'ultima parola volevo dedicare alla famiglia nuova nata, la famiglia del sovrapposto dell'828U che a un anno e mezzo dal lancio ha sottolineato risultati sicuramente significativi incontrando non solo quello che è il favore del cacciatore, della critica, dei giornalisti, della stampa, ma è riuscita a consolidare una presenza sul mercato veramente notevole grazie alle caratteristiche tecniche che esso contiene, a quello che è stato l'approccio palingenico dell'arma verso un mondo quello del sovrapposto per l'appunto molto classicheggiante che è riuscita veramente a sfondare ad andare oltre i canoni della classicità. Ci aspettiamo per il futuro un ampliamento della gamma, un ampliamento della piattaforma del sovrapposto, vi invito a starci vicino a vedere quello che Benelli sarà in grado di offrire anche in questa nuova categoria di prodotto che tante soddisfazioni ci sta rilasciando. Grazie e buonasera.